Buongiorno a tutti, cari amici di Teletermini, siamo qui come vedete alle mie spalle dalla sezione 1 dove si è riunita la commissione elettorale centrale che sta verificando i verbali dello scrutinio, i verbali delle varie sezioni, le 30 sezioni di Termini Merese che hanno scrutinato queste amministrative del 2017. Sono stati resi ormai ufficiali i dati per i vari sindaci, tutti i dati sono stati confermati per quello che erano, quindi diamo l'ufficialità. All'ultimo posto, al quinto posto si piazza il candidato Sorce con 2.438 voti, il 15,83% dei consensi dei cittadini termitani. Poi abbiamo al quarto posto il candidato Pippo Preti con 2.991 voti, è una percentuale che si attesta al 19,42% e quindi queste ufficialità sono stati confermati, ribadisco i dati delle 30 sezioni dalla commissione elettorale centrale. Poi al terzo posto davvero esploade il Movimento 5 Stelle che per soli 40 voti non va al ballottaggio e lascia il passo a Vincenzo Fasone. E allora con 3.239 voti e il 21,04% si ferma la corsa del dottore Di Liberto che per 40 voti, ribadisco, infatti il candidato Fasone si attesta sui 3.279, quindi 40 voti precisi, con una percentuale del 21,29, quindi una percentuale con lo 0,15%, il candidato Fasone va al ballottaggio contro il candidato Giunta, che vince questa tornata di primo turno con 3.451 voti, quindi con poco meno di 200 voti di differenza e il 22,41% di consensi. Questa è l'ufficialità dei voti del sindaco. La commissione ha rilevato un paio di problematiche relative ai conteggi e questo sarà adesso sottoposto al vaglio della commissione, in particolare su una sezione in cui non ha patta la 70, come si dice, non ha patta dei conti, ma di questo chiaramente adesso è semplicemente una questione matematica, di somma matematica, quindi a breve penso si risolveranno le questioni. La questione è relativa ai voti, compresi i voti contestati e assegnati per l'elezione del sindaco e delle liste. Come sapete benissimo i voti validi dovrebbero corrispondere ai voti del sindaco, perché era il voto univoco che su tante liste valide ci devono essere lo stesso numero di voti al sindaco, mentre i voti di lista, siccome ci sono stati i voti dati al solo sindaco, i voti di lista dovrebbero essere di meno. Ebbene c'è una sezione che ne ha quasi il doppio e quindi dovevano verificare come mai c'è stato questo problema di somma matematica, ripeto, potrebbe essere solo un problema in somma matematica, ma questo è irrilevante ai fini della designazione di quelli che sono i voti ai sindaci, è una questione che riguarda tutt'al più i voti relativi alle liste. Detto questo, vi dico che le schede non valide, questo è un segnale positivo nella nostra città, perché in complesso tra voti non validi e schede bianche abbiamo 629 su 15.000 voti validi, su 15.000 voti assegnati 629 sono le schede invece non valide e questo diciamo che è un ottimo risultato perché vuol dire che la gente ha votato e ha votato validamente, insomma soltanto 629 in una quantità così grande è davvero un risultato importante. Per quanto riguarda i consiglieri comunali, bene, al momento ci fermiamo qui e non andiamo oltre perché davvero è un calcolo complessissimo quello dei candidati che prenderanno seggio in consiglio comunale. Quindi dobbiamo aspettare, dobbiamo aspettare che si faccia un conteggio complicatissimo di resti, di particolari conteggi per cui al momento possiamo soltanto, potremmo, potremmo ma non lo facciamo soltanto ipotizzare quelli che sono i possibili candidati sicuri, anche perché il ballottaggio come sapete l'abbiamo già detto altre volte, ne avrete parlato con amici e tanti altri, c'è il premio di maggioranza, questo premio di maggioranza se c'è un apparentamento verrà diviso fra le liste apparentate, mentre se non ci sarà apparentamento sarà un tutto per tutto, cioè il sindaco che vincerà porterà a casa il premio di maggioranza perché la legge regionale vuole garantire comunque una buona maggioranza al candidato che vince le elezioni per poter governare. Giusto? Sbagliato? Non lo sappiamo, soltanto di certo, il fatto lo possiamo asserire con certezza che il candidato che andrà a vincere queste amministrative 2017 si porterà a casa ben in totale 10 consiglieri comunali. Chi perde, perde malamente. Allora, questo già lo possiamo dire con una certa certezza. Se le tre coalizioni che hanno perso le elezioni, quindi la coalizione di Liberto, la coalizione di Sorce, la coalizione di Preti non si apparenteranno con uno dei sindaci al ballottaggio e non vincerà poi quella coalizione, resteranno con un seggio a testa. Quindi nonostante abbiano preso la coalizione Preti, abbia preso quasi 4 mila voti, la coalizione di Liberto che era una coalizione che ha formato da un solo partito, abbia preso 2 mila voti, quasi, di lista stiamo parlando e la coalizione di Sorce abbia preso circa 2 mila, quasi 3 mila voti. Ebbene, nonostante questi numeri apporterebbero a casa un solo seggio ciascuno. Questa è la notizia di stamattina con cui mi sono confrontato con tanti esponenti della politica che vengono qui a seggio 1 a raccogliere i dati e le situazioni che vengono fuori. Quindi, cari amici, questa è la situazione ad ora, alle ore 11 di mercoledì. Adesso, finiti i sindaci, si cominceranno a fare i riconteggi per quanto riguarda sempre i verbali. Verbali, altra cosa che è un po' strana, cioè è strana per me che è la prima volta che mi avvicino a questa situazione. Io non sapevo, per esempio, che la Commissione elettorale centrale andasse a guardare solo i verbali e non andasse a verificare le schede nulle, i voti nulli e contestate. Quindi, quando sono stati messi a verbale durante lo spoglio queste schede, non saranno controllate in questa sede, ma se qualora lo ritenessero opportuno, chi ha perso, chiaramente, e vorrà che si ricontrollino le schede nulle, annullate e le contestate e protestate, devono fare il ricorso al TAR, un ricorso esoso, un ricorso che, chiaramente, non tutti si possono permettere. Da questo punto di vista, vi anticipo che ho parlato con esponenti di Momento 5 Stelle, i quali probabilmente sono decisi a voler fare questo ricorso al TAR, ricorso al TAR che, come molti di voi sapranno, purtroppo ha dei tempi molto lunghi, stiamo parlando di anni, prima che venga riconosciuta le motivazioni per cui si richiede il ricorso, poi vengano ricontrollate questi dati, insomma, davvero una prassi lunghissima e quindi si parla che poi, magari, fra tre anni, avendo ragione, mettiamo caso, chi voleva il ricontrollo, aveva ragione e va a recuperare quei voti di scarto per arrivare, per esempio, al ballottaggio e a quel punto si dovrebbe chiudere, sciogliere il Consiglio. Insomma, ci sono delle cose, un pochettino, delle discussioni un po' particolari. Allora, poi vedremo di parlare più tardi, io sono qui, vedremo di parlare più tardi con i candidati che parteciperanno al ballottaggio, ho parlato già col candidato Giunta, mi hanno riferito che il candidato Fasone verrà pure nei prossimi minuti, quindi ci ricolleghiamo naturalmente in diretta e poi, chiaramente, con teletermini registrata, tra un po' concluderemo questa discussione insieme ai candidati che ci spiegheranno anche un po' le dinamiche, se sono a loro chiare, anche perché davvero è molto complicato riuscire a capire la quantità di seggi che verranno assegnati più o meno. Ad ogni modo, la certezza è che giorno 25 andremo a votare nuovamente per il ballottaggio tra il candidato Giunta e il candidato Fasone. Questa è la certezza che vi possiamo dare, quindi a dopo con la diretta e a dopo anche con gli amici teletermini, ci sentiamo dopo.